Le difficoltà della vita devono smuovere la nostra creatività, non le nostre lamentele. E la creatività vera è la capacità di fidarci del Signore e di ricordarci di chi siamo figli, a chi apparteniamo, chi è dalla nostra parte. Dice Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quanta pace dà la fiducia nel Signore, nella sua provvidenza, nel suo esserci. Guardando Maria, in questa donna noi vediamo realizzato tutto. Questa donna non ha paura di stare davanti all'angelo Gabriele con la sua mancanza, con la sua domanda, con la sua paura. Questa donna non ha nessun timore di dire a casa di Elisabetta che il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, il vuoto della sua serva, lo spazio della sua serva. Perché Maria, più di tutti gli altri, ha potuto dare al mondo il Figlio di Dio? Perché non c'è nessuno di più umile di lei. Non c'è nessuno che ha fatto più spazio a Dio di lei. Non c'è niente che fa da impedimento nella vita di questa persona al passaggio di Dio. In questo senso è davvero aiuto dei cristiani. Come una madre aiuta un figlio. La capacità di questa donna di fare spazio a Cristo è ciò che può aiutare ciascuno di noi nella nostra vita. E a indicarci una strada. Noi dobbiamo imparare a portare...